Sulla nostra regione dopo il passaggio di un fronte freddo nella notte tra venerdì e sabato avremo un deciso miglioramento del tempo. Nella giornata di sabato infatti affluiranno correnti settentrionali secche abbastanza stabile, ci sarà ancora bora sostenuta al mattino sulla costa, andrà calando nel corso della giornata, è possibile vento da nord in quota in montagna. Temperature in calo in montagna con un zero termico intorno ai 1000 metri ma durante il giorno su pienure costa le massime saliranno intorno ai 12-13 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica un cielo poco nuvoloso al mattino con ancora un po' di borino sulla costa che si attenuerà, cielo variabile nel corso della giornata per l'arrivo di un po' di umidità ad alta quota, temperature più o meno stazionari su valori ancora in linea con la media del periodo. Anche lunedì è previsto tempo discreto con cielo tra poco nuvoloso e variabile e in arrivo invece un nuovo peggioramento nella giornata di martedì con un fronte atlantico che porterà probabilmente piogge anche abbondanti e nevicate anche piuttosto abbondanti in montagna a partire dagli 800-1000 metri di quota. Martedì è atteso anche lo scirocco abbastanza sostenuto sulla costa con possibili mareggiate. Buon fine settimana a tutti!